Non dimenticare, la revisione del tuo veicolo è importante per la sicurezza di tutta la famiglia. Il centro revisioni Città Vallo è il punto di riferimento per autoveicoli, motoveicoli e quadricicli. Servizio di richiamo gratuito alla scadenza della revisione, pollino blu, convenzione ACI e pluriannale esperienza garantiscono qualità e professionalità in un moderno centro revisioni dove hai anche la possibilità di prenotare online. Città Vallo vi aspetta in Contrada Fuorchi ad Atena Lucana Scalo e in via provinciale a Silla di Sassano. Info al 339 25 13 215